Mettere l'economia al servizio dei popoli, costruire la pace e la giustizia, difendere la madre terra. Sono le priorità indicate da Papa Francesco ai partecipanti al terzo incontro mondiale dei movimenti popolari. In un discorso lungo e intenso il Pontefice ha parlato anzitutto dei muri che dividono e della paura che oltre a essere un buon affare per i mercanti di armi e di morte, distrugge le nostre difese psicologiche e spirituali e ci anestetizza di fronte alla sofferenza degli altri. Tutte le barriere possono essere abbattute, ha precisato soprattutto con la misericordia, il miglior antidoto contro la paura, molto meglio degli antidepressivi e degli ansiolitici. Rimarcando ancora una volta il dramma dei migranti, Papa Bergoglio ha espresso soddisfazione per il lavoro dei movimenti popolari che recuperano fabbriche dai fallimenti, reciclano ciò che altri gettano, creano posti di lavoro e coltivano la terra, ma ha messo in guardia tutti dalla rischio di lasciarsi incasellare e lasciarsi corrompere nel rapporto con la politica. Davanti alla tentazione della corruzione, ha detto il Pontefice, non c'è miglior rimedio dell'austerità, questa austerità morale e personale. Vi chiedo di non sottovalutare il valore dell'esempio perché ha più forza di mille parole, di mille volantini, di mille mi piace, di mille video su YouTube. Grazie a tutti.